E' la prima volta che i funzionari di UbiBanca varcano la soglia di via Calamandrei ad Arezzo per incontrare i responsabili delle filiali italiane della nuova Banca Etruria appena acquisita. La Good Bank, rinata dalle ceneri di Banca Etruria con il cosiddetto decreto salvabanche, è stata acquisita assieme a Carichietti e Bancamarche. Arezzo è il terzo ed ultimo incontro nelle tre banche. Il confronto è iniziato alle 8.30, da una parte il vice direttore generale vicario di UbiBanca Elvirio Sonnino e il responsabile delle relazioni sindacali Mario Giuseppe Napoli, dall'altra i circa 150 tra impiegati dirigenti di tutte le filiali italiane. A margine si è poi svolto un breve confronto con i sindacati. E' stato un incontro di convenevoli più che altro, è stato un incontro che aveva a che fare più con un saluto, con una conoscenza che altro, anche perché, come ci hanno ribadito fino al 31 di marzo, che non c'è il closing dell'operazione, ufficialmente non si sideranno ad un tavolo. L'impressione è quella di persone che hanno capito il dramma che hanno subito i dipendenti a causa delle famose subordinate e che hanno capito che qui c'è gente che ha voglia di lavorare, che ha voglia di ripartire con grande velocità, gente molto preparata professionalmente. E in calendario per oggi c'era anche l'incontro tra Roberto Nicastro, presidente delle quattro Good Bank, e di sindacati nazionali a Roma. E' stato un incontro ovviamente positivo. Prevedono di fare a brevissimo un incontro tra l'attuale proprietà, che è l'ente di risoluzione, quindi col dottor Nicastro, però presenti anche i vertici di UBI, e a cui parteciperanno ovviamente le segreterie nazionali, ma anche i coordinatori delle varie banche, proprio per definire quello che poi potrà essere il percorso di trattative che comunque dovrebbero essere trattative separate, banche per banca.